Buongiorno, qui è Giacome Dia dal Bronton Tokyo Tour e oggi parleremo di viaggi, viaggi in bicicletta Bronton. Come potete vedere la bicicletta che vi sto presentando, la mia personale bicicletta, riferisce molto da le Bronton che potete acquistare in negozio. Innanzitutto troviamo 22 rapporti, 2 marce anteriori e 11 posteriori, freni a disco, dinamo all'interno del mozzo, gancio borsa elettrificato. La trasmissione è interamente meccanica, freni a disco idraulici. Si può piegare come una Bronton standard, questo fa sì che non abbiamo bisogno di ulteriori cavalletti. Un ulteriore dettaglio sulla forcella anteriore e freni a disco Magura. Sistema di illuminazione son dinamo con luce supernova per ricarica dispositivi elettronici. La trasmissione è una trasmissione Shimano XT, 11 rapporti. Qui invece il setup che utilizzo per i miei viaggi in Bronton, borsa anteriore Joseph Cusack in collaborazione con Bronton Tokyo Tour, portapacchi posteriore Topic con borsa Monkey Cage. Seguite il mio canale Instagram Bronton Tokyo e lasciate un commento se il video vi è piaciuto.